Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Jonathan e ben ritornati in questo nuovo fashion vlog. Scusate se il video l'ho stoppato, però mi sono dimenticato di fare delle cose. Aspetta che questi non mi servono più. E comunque, ci sta anche il mio fratello Ismaele. Ciao. Di bella raga. Bella raga. Allora, aspetta, no non ho ancora finito, aspetta raga. Ripeto, scusa, però mi sono dimenticato delle cose. Allora, due mesetti fa o tre mesetti fa circa, ho inventato un'arte tutta mia. Gioele, zitto. Ho inventato un'arte tutta mia e l'ho chiamata arte a rete, guardate la rete. Tipo la rete per catturare i pesci. Guardate. Allora, prima, per chi non avesse visto l'altro video che facevo il tutorial, come disegnare la mia arte a rete, lo potrei mettere tipo qua sopra o qua al centro e lo cliccate. Non lo so come fanno i youtuber, però io non lo so fare. Oppure, oppure vi posso mettere il link, c'è che non lo so fare neanche questo. E comunque per disegnare la mia arte a rete, per chi si avesse perso quel video, bisogna prima fare cinque pentagrammi. Mi aspetta, uno, due, tre, quattro e cinque. Tu ne hai fatti sei. Ma ne hai fatti sei con queste due righe qua. Ma in realtà non è un pentagramma, è mezzo. Cinque pentagrammi come questo. Uno, due, tre, quattro e cinque. Però bisogna fare anche una specie di pentagramma con due linee, tipo qua, guardate. Dopo bisogna fare in orizzontale, così, cioè in verticale. E dopo bisogna fare in obliquo, come ho fatto qua. E oggi mi è venuta in mente l'idea di disegnare un omino nella mia arte a rete. Partiamo. A me me l'aveva detto quando aveva bloccato il video. Isma, ma che se ne frega. E comunque... Dai, Isma, vieni tu che così puoi imparare qualcosa. Ok, ma... Allora, prima bisogna... Oh, che confusione sta casa. Allora, bisogna fare un cerchio come tutti gli omini. Non si capisce. E infatti, aspetta... E in realtà sto omino si chiama anche Stickman, perché... Sì, lo... I Stickman sono gli omini in inglese. Sì, io ho due giochi degli Stickman. Ok. Però uno l'altro. Della prigione? Dopo bisogna fare il collo. Qua... C'è i piedi. Questi sono i piedi. Adesso ve lo faccio vedere, tranquilli. Due... Mi sono perso. Ah, no, eccolo qua. Le braccia. Si capisce un po'. Dopo gli occhi. Già, lo dovevi fare di nero, così si capiva di più. La bocca, con i denti. No, lo ripasso in nero, allora. E qua il naso. Naso a patata. Qua le orecchie. E i capelli. È l'omino più brutto che avessi mai visto al mondo. Lo posso ripassare io di nero? Sì. Chi è? Allora, ragazzi. Chi è? Oh, oh, oh. Chi è? Chi è? Chi è? Aspettate. Oh, non si è visto. Ma io l'ho detto nel video. Guarda qua. Questo è un omino. Adesso tu ripassi di nero. Solo l'omino che ho fatto. Aiuto. E ne sto andando a quel paese. Tanto si sapeva. Il paese si trova o a nord o a sud. E che ci sta là? Che ci sta la... Eh... Paeselandia. In realtà, in modo più brutto, si dice... Hollandia. Che è qua? Il naso? Sì, il naso a patata. È come una patata. Ma l'hai messo... L'hai messo in mezzo agli occhi. Eh... Ma tutti i nasi stanno in mezzo agli occhi. Come? Cioè, in realtà, no? Però sta in basso. Però io mi... Ti immagini che un naso sta sopra agli occhi. Eh, vabbè. Le orecchie. Allora, abbiamo fatto la pazza... Io ho fatto la pazza prima. Sì, ma... Eh... È sotto... Cioè, in mezzo... E... È adesso... È sotto... Hai capito, Isma? Ok. Bambino più brutto che me. Sembri tu? Ehi! Perché c'hai capelli ricci. Vedi, c'hai capelli ricci. Ma io non c'hai capelli ricci, guarda. Lo so, ma poco. Eh, ma non è... Eh, ma... Sembra già... Vieni. Vieni. Ma non sono così brutto. Sono io che una testa a patata, guarda. Però se tu te lo ritrovi di notte, sta cosa, detruite, quando magari stavi facendo un TikTok, te spaventa, ti viene una paralisi di infarto. Tipo, tipo fa così. Aspetta, tipo così. Ma chi è questo dietro? Ciao. Ma che cag... Ma aspetta, guarda, aspetta. Ciao. Poi muore. Ma dai, smadei, ripassa anche le braccia e il collo. No, è vero. Mi sono dimenticato. Ma l'opino non è solo un cerchio. Con... Eh. Bravo, hai capito anche dove sono le gambe. Perché io tanto non disegno così male. Isma, sono queste le braccia. Vabbè, non fa niente. Le colori queste, da qua. Tanto si capisce. Ma proprio a colorarle dentro. Ehm... Man... Ok. Io dice... Io coloro il naso a patata. Ed è fatto. Aspetta. E dopo andiamo a mangiare. Adesso. Ed ecco a voi il nostro disegno. Lo metterò qui. Ragazzi, allora, l'altra volta, tipo sette mesi fa, avevo fatto un video sulla verità dei miei video vecchi eliminati. E io c'avevo una serie, cioè, quei video li ho eliminati tutti perché c'era una specchia di intruso, dove stava navigando per il mio canale YouTube, cioè che in realtà era nostro. E io portavo una serie che si chiamava Disegnare.it. Guardate, io... È vero! Ti ricordi, Isma? Sì, ma perché? Perché non la facciamo più? Da dietro si vede meglio, però. Cioè, per fortuna che ho disegnato sta roba. E comunque, cioè, io disegnavo tutti i disegni, tutti i disegni nei fogli li mettevo sempre nell'angolo. Eh, e questa cosa un po' ci commuove perché, cioè, io avevo fatto anche una serie. Sì, avevi fatto la serie Disegnare.it che avevi fatto in uno. E poi un'altra serie di quella che facevamo Io contro te. Ah, e i dis... sì, è vero, la sfida di disegni... Cioè, in realtà quello non lo... Che disegnavamo... Ma era... No, un ragno o no? No, Isma... Un dinosaurio. Ma quello non l'ho eliminata, l'abbiamo fatto proprio quando stavamo rifacendo i video da capo, quindi ci sono ancora. E qui di fa non lo possono ancora vedere. Ne rifacciamo un'altra dopo. Forse, forse. E comunque io avevo fatto anche un'altra serie che si chiamava I miei video vecchi eliminati. Però si erano un po' bloccati. Vabbè, stavo perdendo tempo. Che è? Che cazzo? Lo Slenderman. Sì. Aiuto. E comunque vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Aspè, ci sta l'intro di noi con voi con te. Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze. Io sono Jonathan. Ismaele. Cioè, noi siamo noi. Con voi e con te. E con Joelle. Quanto Joelle non c'è. E comunque vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare like e scrivere qua sotto un commento. Ho fatto così. Dopo scrivetelo un altro dicendo fatto. E grazie a tutti per aver visto il video di oggi. Nel fatto è... Il daily vlog di oggi. Ho sbagliato le battute. E nel fatto è poi meglio che finisca quel video. Meglio che lo chiuda. Ho fatto uno scegli lingue come aprire i video da pollo perché così è tardissimo. Allora, vabbè, vabbè. Spero di se a tutti le piacette. E da tutti ancora ciao a tutti. Cioè, e da noi, io, Jonas Vannis. E il Joel Vannis che non ci sta. I nostri nomi veri siamo. Jonathan Vannicola. Ismael Vannicola. E Joel Vannicola. E da noi tutti ancora ciao a tutti ragazze, ragazze. Finis, il video non è velocizzato. Finis, vi, hands. Grazie ancora a tutti per aver visto il video di nuovo. Ciao. Finisci il video di merda.